lunedì 22 agosto 2016 vertice europeo a vento tene holand merkel e renzi si incontrano per dare una vera svolta positiva all'unione europea alla fine conferenza stampa sulla portaerei giuseppe garibaldi eccovi la sintesi dettagliata di tutto quanto è stato deciso da francia germania italia parole 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 ascoltami parole 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 ti parego parole 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 io ti giuro parole 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 soltanto parole parole tranne ecco il mio destino parlarti parlarti come la prima volta